Musica Al Nani si affronta due squadre in zona rossa di classifica e Bellarigia Marina 1956 ha bisogno di punti per distaccarsi da Bagna Cavallo 2M Nova Fetia. Il Gambetto dopo alcune partenze si mette leggermente a riparo con un più due che non lascia sicuri e non a caso la partita risulta vincente fin dalle prime battute con i nero-verdi che rimarranno in 10 dal 28 del primo tempo con l'espulsione rimediata a Berardi causa proteste. I Bellarigia Marina 1956 invece riscopre la vena realizzativa di Bellavista, sempre più decisivo nelle ultime gare perché riguarda le individualità degli Adriatici che al pronte via vanno subito alla battuta dalla bandierina con una sponda in direzione Facondini l'attaccante di testa mette a lato. Ma la risposta del Gambetto è terribile per i padori di casa, Rigoni porta a palla tra i piedi ed esegue un gran tiro che lascia di sasso Forastieri. 1-0 per gli ospiti che festeggiano a loro modo la marcatura ma non c'è neppure il tempo di rientrare per difendere il vantaggio che Bellarigia Marina 1956 perviene a pareggio con Bellavista. Il Folletto va via in velocità e davanti a Dallara non sbaglia, 1-1 e ristabilita la parità in campo. E ancora Bellavista rende si pericoloso, la sua discesa viene trasformata per poco attraverso una deviazione in rete e il pallone sbatte sulla traversa per poi essere raccolto a Dallara. Lo stesso portiere è chiamato a nuovo intervento sul tiro di Facondini, infine di piede respinge l'ennesima incursione di Bellavista. La partita si accende quando Berardi viene scaraventato a terra, recrimina e viene allontanato anzitempo per proteste. Il Gambetto la rimane in dieci uomini, si chiude a Riccio e Bellaria sfrutta solo la punizione. Marighini calcia alto, l'ultima chance arriva dall'affondo di Lelli ma Perazzini arriva in ritardo. Il Bellaria dovrebbe fare la partita ma fa la d'inizio ripresa il Gambetto, la Lelli verrà spina costante e mette al centro per Bacchini che si divora un gol facile facile. Lo stesso Lelli impegna così i forastieri. È la volta dei Bellaria, il tiro di Zanni è lento e prevedibile, Marchini invece stoppa la sfera ma non riesce a dare precisione al tiro. Sull'altro lato Lelli è il pallone del vantaggio ma viene chiuso ottimamente dal reparto difensivo locale. Il Gambetto a questo punto è se di scena e salincate tra i Bellaria, il tiro di Ceccarelli sbatte sul palo. Il giocatore serve poco dopo un assist al bacio a bella vista, tiro centrale, mentre Dallara deve superarsi sul tiro di Zanni rifugiandosi in corner. Dalla bagnerina il colpo di testa di Zanotti sbatte sulla traversa. Dallara vola anche sul tiro dalla distanza di Facondini. Chiude il capitolo azioni, Valentini dalla distanza per la facile presa di Dallara. 1-1 in finale con i Bellari di Giammarina 1956 che appunto avrebbe meritato qualcosa in più. Il Gambetto a seppur in 10 unità gioca una buona partita sfiorando ad inizio ripresa in due occasioni la marcatura.